In Belgio, dimissioni shock nella Commissione per l'eutanasia. Un neurobiologo ha denunciato la sistematica violazione della legge sul consenso all'eutanasia in Belgio. Video. 15 anni di sperimentazione in Belgio. Da Corrispondenza Romana. Il neurobiologo dottor Ludo Van Optenbosch, ex membro della Commissione federale per il controllo e la valutazione dell'eutanasia in Belgio, ha denunciato la deliberata e sistematica violazione della legge. L'agenzia Associated Press ha reso pubblica la sua lettera di dimissioni, inviata lo scorso settembre a politici di alto livello, per denunciare, come in tutto questo, la Commissione, di cui ha fatto parte per diversi anni, abbia svolto un ruolo attivo di supervisione. Non voglio far parte di un comitato che ha deliberatamente violato la legge, ha dichiarato, pur dicendosi personalmente a favore dell'eutanasia, ma non dell'illegalità. Van Optenbosch ha personalmente assistito a casi di medici mai denunciati dalla Commissione alle autorità. benché avessero praticato l'eutanasia senza la necessaria autorizzazione. E tutto questo per motivi politici e ideologici. È la sorte capitata ad un malato di Parkinson. Non è eutanasia, poiché il paziente non l'ha mai richiesta, ha dichiarato il dottor Anne Henkins, direttore psichiatrico dell'ospedale Alexianen-Entinen in Belgio, dove non v'è un'altra parola che omicidio per descrivere quanto accaduto. Ha concluso. Chi soffre di demenza o di deficit cognitivi è più a rischio di altri. Oltre 360 medici, accademici ed intellettuali hanno firmato una petizione per chiedere controlli più severi sull'eutanasia praticata in questi casi. Il dottor Van Opden Bosch lamenta anche il fatto di essere stato messo a tacere da altri membri della sua stessa commissione, quando ha espresso le prime preoccupazioni in merito. Ed è questo sistema a garantire l'impunità a chi commette questi crimini. Non è un caso che i due copresidenti dell'organismo, i dottori Wim Distelmanse e Gilles Genicol, abbiano categoricamente negato qualsiasi negligenza. Di queste denunce ha già parlato la stampa internazionale. Se ne è occupata anche l'agenzia Associated Press, che è americana. Gli unici media che non hanno ancora parlato della faccenda sono proprio quelli belgi. Nota di basta bugie Imperdibile video e eutanasia 15 anni di sperimentazione in Belgio di 4 minuti che mostra l'abominio dell'omicidio legalizzato in Belgio. La falsa misericordia è il falso buonismo che sta dietro questa pratica omicida raccontata dai protagonisti. La falsa misericordia è il falso buonismo che sta dietro questa pratica omicida. La falsa misericordia è il falso buonismo che sta dietro questa pratica omicida.